Andiamo! Frematemi, soffrono all'etico! Tenete l'anello lontano dalla fronte! Pronto! No! Chi osato evocare il demone del faraone? Demone! Dovevano essere diamanti! Aiuto! Da questa parte, amico, io ti ho evocato! Il faraone Dinkadinkadu! Sono i diamanti! Orrendamente piccolo per un faraone non trovi! Io sono stato molto malato! Sono ricco! Sono ricco! Sono ricchissimo! Che ci fa questo rubino qui in mezzo? E' chiuso!